Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato agli aggiornamenti delle notizie dal Veneto. Ieri sera e questa mattina disordini nel carcere minorile di Treviso. Ieri sera i detenuti tutti minorenni hanno incendiato materassi e oggetti vari che si trovavano all'interno del penitenziario. Immediato l'allarme in seguito al forte fumo e alle possibili conseguenze che sono comunque state tenute sotto controllo. I detenuti sembra stessero protestando per la qualità del cibo ma questa mattina è nuovamente montata una nuova protesta. Gli uomini della questura stamane in tenutanti sommossa sono arrivati nell'edificio e dopo qualche ora la situazione è rientrata nella norma. Continuiamo con altre notizie. Ci spostiamo in provincia di Padova a Vigonza in via Aldomoro. Tragedia ieri nella frazione di Busa un uomo di nazionalità indiana è stato trovato senza vita all'interno di una cabina telefonica. Una delle poche cabine rimaste. L'uomo è stato trovato strangolato con il filo del telefono. In queste ore gli inquirenti stanno cercando di capire se possa trattarsi di suicidio ma non viene esclusa nemmeno l'ipotesi dell'omicidio. Sul corpo verranno eseguiti degli esami per gli accertamenti e ricostruire quanto accaduto. Appare davvero incredibile che in una frazione, un quartiere residenziale, possa accadere una così simile tragedia. Qualcuno racconta anche che l'uomo da qualche tempo dentro quella cabina telefonica ci dormiva. Una storia davvero tremenda che porta con sé anche una situazione drammatica nella quotidianità di questa persona. Adesso parliamo del reddito di cittadinanza e di furbetti. 55 le persone pizzicate nelle ultime ore in Veneto a ricevere il reddito senza averne diritto. Sentiamo tutto nel servizio. La Guardia di Finanza di Rovigo ha denunciato 55 persone per aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza. Nei loro confronti i finanzieri hanno chiesto inoltre il sequestro preventivo per complessivi 415.000 euro. L'indagine, che fa parte di una più complessa attività a livello regionale, è stata avviata dai finanzieri della tenenza di Adria coordinati dal gruppo di Rovigo. Seguendo un preciso percorso investigativo, hanno scandagliato una vasta platea di soggetti che hanno beneficiato del reddito di cittadinanza, individuando e segnalando alle autorità 55 persone di diverse nazionalità che avevano autocertificazioni con informazioni false. Scoperto un traffico di gasolio introdotto in Italia in modo illegale, sequestrati 82.000 litri di prodotto, di contrabbando e 3 tir, denunciate 7 persone. È l'esito finale di un'operazione eseguita dalla Guardia di Finanza di Treviso. Da alcuni mesi i militari stavano seguendo delle indagini scrupolose sui mezzi provenienti dall'est Europa. I camionisti arrivavano dall'Austria e dalla Germania in particolare, entravano in Italia dai valichi delle province di Udine e Trieste. Con sé avevano documentazione incompleta e dicevano di dover raggiungere zone del sud del paese. I militari hanno ricostruito tutto portando alla luce la realtà dei fatti, cioè che le cisterne trasportavano in maniera illegale il carburante. Proseguono le indagini per dare un'identità alla donna trovata dentro al borsone, senza vita, restituito dalle acque del fiume Po. Al momento non ci sono esiti dopo le comparazioni tra il suo DNA e quello delle donne che risultano scomparse. Dunque le ricerche stanno proseguendo e viene chiesto l'aiuto di tutti i cittadini. Per questo motivo i carabinieri hanno diffuso delle immagini, le vediamo in questo momento. Sono i vestiti che la vittima indossava. I carabinieri chiedono a chiunque fosse in grado di dare delle informazioni di contattare il 112 al fine di dare un'identità a questa donna. Parliamo di un incidente avvenuto in provincia di Belluno questa mattina. Poco dopo le 10.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in una zona boschiva per portare in salvo un uomo che era scivolato in una scarpata. Guardate. Un uomo di 53 anni è scivolato da una scarpata in una zona boschiva della provincia di Belluno. L'incidente è avvenuto in una zona boschiva in località Villa di Pieve dal Pago. Erano le 10.30 quando dopo la richiesta di aiuto sono intervenuti i soccorsi. I pompieri arrivati da Belluno anche con il personale del nucleo SAF Speleo Alpino Fluviali e i volontari dell'Alpago hanno raggiunto l'uomo prestando il primo soccorso fino all'arrivo del personale del SUEM. Il ferito dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in barella fino al campo sportivo e imbarcato a bordo di un'eliambulanza per essere trasferito all'ospedale. E adesso abbiamo una buona notizia perché è stato ritrovato un uomo anziano che ieri si era smarrito. È stato rinvenuto nel cuore della notte dai vigili del fuoco. Era seduto a bordo della statale 50 tra Feltre e Belluno in comune di Santa Giustina. Si tratta dell'anziano di 88 anni di Treviso che era uscito a fare un giro in macchina e non capiva più dove si trovava. L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte quando l'uomo al telefono con il figlio riferiva di non capire dove fosse. Mentre il figlio stava cercando di capire dove si trovava il padre la telefonata si è interrotta senza più riuscire a prendere la linea. I vigili del fuoco subito allertati si sono attivati e avuto una prima triangolazione del segnale telefonico. Hanno iniziato le ricerche con una squadra di Belluno e una di Feltre nella zona tra Cesio Maggiore e Santa Giustina. Dopo circa due ore il ritrovamento dell'uomo che era seduto a bordo della strada statale 50 era in stato confusionale. È stato assistito dai vigili del fuoco in prima battuta e subito dopo dal SUEM che con i sanitari è intervenuto sul posto ed è stato trasportato all'ospedale per dei controlli. E quella di ieri è stata una mattina davvero difficile per tantissimi automobilisti che si sono imbattuti in una serie di incidenti stradali lungo l'A4. Allora sentiamo un resoconto di quello che è accaduto ieri. Otto incidenti in poche ore, quattro in direzione Venezia e quattro in direzione Trieste nel tratto maledetto dell'A4. L'autostrada è stata chiusa e la viabilità è precipitata nel caos per l'intera giornata di ieri. Incidente tra tira nel tratto maledetto dell'A4 è stato il primo al mattino presto e la viabilità è andata subito in tilt. È successo alle 7.30 e ha coinvolto tre mezzi pesanti. Appena due ore dopo, incidente nel territorio di Latisana alle ore 9 sempre in direzione Venezia, ancora con due mezzi pesanti coinvolti. Nel pomeriggio alle 14 un altro incidente ha segnato la giornata nera per la viabilità del nord-est. Alcuni mezzi si sono scontrati sempre nel tratto dell'A4 che attraversa il Veneto orientale. Altro incidente tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia, tamponamenti tra auto e si sono formati 4 km di code. Incidente verso le 15.30 in direzione Trieste al km 435 tra Cessalto e Sastino di Livenza. Anche in questo caso si sono formate code. Infine gli ultimi due sinistri a pochi minuti uno dall'altro attorno alle 16 in direzione Trieste. Due tir tra Sandola di Piave e Cessalto. Nell'impalto uno dei tir ha spostato in avanti un carico di due tonnellate. Nell'ultimo incidente invece un'auto ha tamponato un mezzo pesante tra Cessalto e Sastino. Sul posto 118 il conducente era cosciente e fortunatamente non in pericolo di vita. Eccezionale intervento per salvare la vita ad un uomo che voleva farla finita è successo a Padova. A intervenire in maniera davvero strategica sono stati due volanti della questura di Padova con l'ausilio di una pattuglia dei carabinieri di 90 Padovana. E' accaduto sul ponte tra via Messico e via Volpato dove al 113 era giunta la segnalazione di un uomo con intenti suicidi. Prontamente individuato dagli agenti si trattava di un 31enne. Era già al di là del parapetto del cavalcavia con le gambe sospese nel vuoto, aggrappato con una mano alla rete metallica e era a 8 metri di altezza. Dopo aver tentato di comunicare con lui gli operatori hanno compreso che era in forte stato confusionale. Una volante, mentre alcuni agenti gli continuavano a parlare, si è recata sotto al ponte. Notando il sopraggiungere di un camion lo hanno fermato posizionandolo proprio sotto alle gambe dell'uomo in modo da poter diminuire la distanza da terra in caso di caduta. Successivamente due agenti unitamente all'autista dell'auto articolato sono saliti sul tetto del mezzo in modo da avvicinarsi il più possibile alle gambe dell'uomo. Mentre un terzo agente con tutte le dovute cautele dopo essersi assicurato con delle corde ha scavalcato il parapetto metallico riuscendo a raggiungerlo e a tenerlo in sicurezza fino all'arrivo dei vigili del fuoco. I pompieri poi lo hanno fatto scendere con un'autoscala munita di cesta. Poi è stato trasferito all'ospedale dal 118. Dobbiamo tornare ancora sull'argomento della Covid perché i numeri non scendono, sono sempre elevati. Allora sentiamo i dati. Il coronavirus non molla la presa e il Veneto si ritrova con quasi 7.000 nuovi contagi, esattamente 6.978, nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della regione segnalando anche 15 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 8.723. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia si aggiorna dunque a 1.572.096, quello dei decessi a 14.289. Sostanzialmente stabile il dato dei soggetti attualmente positivi, 77.796. Poche variazioni nei numeri ospedalieri in area medica sono 903, meno 16. I posti letto occupati dai malati Covid e 48, 4 in più, nelle terapie intensive. Adesso vi raccontiamo una storia davvero straordinaria che merita di essere raccontata e che arriva dalla questura di Padova. La gattina Lea, adottata da qualche mese dagli agenti della questura, nelle ultime 24 ore era sparita. Avvistata nuovamente ieri mattina sotto un cespuglio dell'Aiola di fronte alla questura, presso il monumento ai caduti della polizia e alla lapide in memoria di Giovanni Palatucci, ha dato alla luce quattro gattini. Una felice coincidenza nella giornata di ieri, quando si celebravano i 170 anni. Dunque erano in corso tutte le celebrazioni per l'anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Una notizia importante che riguarda il territorio, con una bottiglia di vino estero su tre bevuta in Russia, che viene dall'Italia, le donne delle cantine scendono in piazza per la pace con un flash mob tutto in rosa per chiedere a Putin di cessare le ostilità. Un'iniziativa messa in atto da Coldiretti assieme alle imprenditrici vitivinicole in rappresentanza di tutte le regioni che si sono date appuntamento a casa Coldiretti in occasione della giornata di chiusura del Vinitaly, proprio per mandare un forte messaggio per la pace. Siamo arrivati al termine di questa edizione. Io ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi do la rivederci. Grazie per la visione! Grazie a tutti.